Gli italiani sono presidenzialisti da sempre. Adesso c'è un governo che fa l'elezione diretta non del Primo Ministro, ma del Presidente del Consiglio, nella maniera più light, 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 quasi che il sapore si sente e non si sente. Nel senso che la chiave sta nei poteri del Presidente della Repubblica e questo progetto non lo tocca. Allora, i primi ministri di Inghilterra, lasciamo sta Macron che è il padrone, è la Madonna, ma di Inghilterra, di Spagna e di Germania, contano infinitamente più dei loro Presidenti della Repubblica. Non sa nemmeno come si chiamano. In Italia, grazie a Mattarella, lo facciamo, io non ho capito tutto questo pericolo dove sta. Altra cosa, non sappiamo più dove mettere gli immigrati. Arriva un santuomo socialista, Elie Rama, che se ne prende 36.000 all'anno e invece di dirgli grazie facciamo tutto questo casino. Ma non ho capito, se ne prende 364.000, dove sta il problema? Ce ne abbiamo troppi, se ci alleggeriscono sotto la nostra tutela, della magistratura, della polizia, ma perché tutto questo casino?